Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze, riduzione di carreggiata per lavori tra Bargino e San Casciano Sud in direzione Firenze. Sulla statale un Aurelia chiuso lo svincolo di Follonica Nord in direzione Roma. Sulla statale Trebis-Tiberina, riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra Val Savignone e Canili e tra Madonnuccio a Poggiolino e San Sepolcro Nord. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, senso unico alternato per lavori tra Scopeti e Dicomano in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!